Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video per me super super speciale perché voglio parlarvi, vorrei esprimervi diciamo ciò che ha rappresentato per me Kodomono Mocha alias Rossana, il giocattolo dei bambini insomma, il fumetto il manga di Myobana che ha fatto sognare tanti 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 bambini in giro per il mondo con il suo fumetto, con il suo anime insomma e con i messaggi che questa storia secondo me lancia questa non sarà una recensione, la recensione l'ho già fatta agli albori del mio canale Kodomono Mocha è una storia che parla di bambini, parla di bambini e dei problemi che questi bambini si trovano ad affrontare in particolare parliamo di Sana e di Akito, i due protagonisti che sono bambini e che però si trovano ad affrontare delle situazioni molto grandi per l'età che hanno dei drammi, delle situazioni davvero molto molto dure ho in mano il sesto volume, non il primo, per la frase che c'è scritta sulla copertina infatti ora non riescerò mai a farvela vedere ma Sana ha sulla mano scritto Never give up, ovvero mai arrendersi ed è uno dei motti più importanti di questa storia partiamo da questo, Never give up Sana è un personaggio forte, una ragazza che combatte per i suoi sogni, per le cose a cui tiene è una ragazza che affronta tanti problemi, tanti tanti scogli insieme ad Akito che invece è un ragazzo più chiuso, meno estroverso, che parla poco un ragazzo che ha avuto dei traumi già dall'infanzia e che per questo si è chiuso molto 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 in se stesso e Sana sarà per lui una ventata d'aria fresca una ragazza invece molto aperta, molto solare che cerca appunto di trovare sempre il meglio nelle cose di essere sempre felice e solare anche nelle situazioni ostili lei cerca di trovare sempre il buono e di imparare da questo Sana è un'attrice affermata, una ragazza che, una bambina che vive di petto, vive di sentimento molte cose nella storia, nella sua vita saranno difficili, molte cose non andranno per il verso giusto ma da ogni esperienza lei cerca, lei riesce a trarne qualcosa di positivo riesce, nonostante si abbatta, nonostante abbia delle crisi, soprattutto verso gli ultimi volumi lei riesce sempre a ritirarsi su con l'aiuto di se stessa, con l'aiuto delle persone che le vogliono bene e con chi appunto la sostiene sempre, come lei sostiene appunto Akito ecco perché prendere in esempio Sana, Sana è una ragazza che per i suoi amici farebbe qualunque cosa li aiuterebbe, li aiuta senza esitare, senza pensarci due volte è una ragazza che appunto mette prima il bene degli altri piuttosto che il bene di se stessa in questo manga si parla di amore, si parla di amore appunto da due personalità molto differenti ma che allo stesso tempo si compensano, due personalità che hanno un vissuto, un trascorso diverso ma non per questo meno difficile è bello vedere come queste due persone si leghino, si uniscano in un legame unico è totalmente personale, un legame che soltanto loro possono comprendere, capire e vivere si sostengono, si spronano a vicenda, ad andare avanti in questo manga ci sono anche i primi dubbi della crescita, i primi amori, le prime esperienze la voglia di fare, di andare avanti, di combattere, di vivere ed è questo appunto che rende questo manga speciale ma appunto l'autrice secondo me vuole con questo manga parlare di vita parlare di vita, spronare le persone ad andare avanti a vivere la loro vita nonostante le avversità che ci possano essere aiutando il prossimo, sostenendosi a vicenda essendo altruisti verso gli altri, altruisti verso se stessi e volersi bene in primis imparare a volersi bene e appunto riuscire a abbattere blocchi che si hanno come nel caso di Akito ma anche nel caso di Sana stessa che affronta, soprattutto negli ultimi volumi, un periodo molto molto difficile lei è un personaggio molto molto forte che però ha i suoi momenti di debolezza i suoi momenti di debolezza spesso molto molto gravi molto intensi, molto profondi quindi è una ragazza forte ma anche molto fragile che però appunto come già detto riesce sempre a risollevarsi a vedere sempre il bene negli altri a vedere sempre le cose belle della vita a stupirsi giornalmente io è così che percepisco il personaggio di Rossana che secondo me è un personaggio che ha tanto tanto da dare da insegnare più che altro che trasmette veramente tanto al lettore quindi cosa mi ha insegnato Codomo no mocio o meglio cosa mi ha insegnato Rossana gioia di vivere nonostante l'avversità è un inno alla vita al rimbocarsi le maniche e andare avanti a imparare ad aiutare gli altri a legarsi con le persone a sostenersi a vicenda appunto a non arrendersi mai e all'essere appunto altruisti verso se stessi verso gli altri a coltivare le proprie passioni ad andare avanti a trovare uno scopo nella vita insomma per esempio il protagonista Kito è un personaggio che ci viene presentato inizialmente come un ragazzo molto molto negativo molto cupo ma che appunto grazie all'arrivo di Sana comunque riuscirà piano piano a ritrovare a vedere le cose sotto una prospettiva differente e anche ad interessarsi a un'attività quale in questo caso il karate vediamo come ogni avvenimento della vita ci forgi, ci cambi in bene o in male come a incontri o comunque altri avvenimenti poi ci possano far cambiare prospettiva sì, questo manga è un inno alla speranza alla vita al sognare all'essere felice all'essere creativi non necessariamente artisti ma creativi nel modo di porsi nei confronti della vita e io adoro queste tematiche e sinceramente reputo questo manga veramente eccezionale perché insegna qualcosa o comunque ha un significato e vuole trasmettere qualcosa un messaggio positivo nonostante spesso le cose che capitano siano particolarmente negative l'esperienza aiuta ogni esperienza aiuta a crescere in questo manga si parla di crescita di formazione e io che l'ho letto quando avevo appunto 12-13 anni l'ho reputato uno spunto una veramente una ventata d'aria fresca perché appunto mi sono ritrovata praticamente coetanea quei protagonisti a vivere quel momento in cui stai crescendo non sei più una bambina ma non sei ancora neanche un adolescente o una donna quindi sei un po' in quella fase di limbo in cui non sai bene come porti nei confronti della vita cosa fare anche perché sei molto piccolo Kodomo Nomo ci insegna ad essere forti ad essere forti nonostante l'avversità ad essere forti nella propria fragilità senza per forza dover lasciare andare le insicurezze ma nonostante queste riuscire ad andare avanti e affrontarle affrontare trasmette un messaggio di forza questo è quello che per me è stato Kodomo Nomo una storia che a me è assegnata nel profondo e che rimane sicuramente il manga a cui sono più legata nonché essere il primo manga che abbia mai letto quindi insomma mai arrendersi never give up e appunto se vi va appunto commentate giù nei commenti se vi va di discutere di questa tematica giù nei commenti a me farebbe molto molto piacere quindi perché ognuno ha un modo di porsi nei coprutti della vita decisamente diverso ognuno ha fatto a modo proprio quindi appunto sono curiosa di sapere cosa ne pensate niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e spero di aver dato il senso che volevo dare a questo video nel senso che non voleva essere una recensione ma voleva soltanto essere ciò che secondo me questo manga insegna e cosa trasmette i tempi di vita da e cosa appunto lascia a una persona per quanto riguarda ciò che ha lasciato a me spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate e niente noi ci vediamo alla prossima ciao ciao